Continua l'emergenza incendi in Europa, dove le fiamme divampano prevalentemente in Spagna, dove un vigile del fuoco è morto, Portogallo, Grecia e Francia. Intanto l'ondata di calore non accena a diminuire e anche l'Italia si prepara a battere nuovi record di alte temperature questa settimana. Secondo i dati dei centri nazionali per l'informazione ambientale, il 2022 è tra gli anni più caldi mai registrati nel pianeta. Per l'Italia, quello più caldo di sempre, la temperatura sulla superficie della terra e degli oceani è superiore di 0,85 gradi rispetto alla media del XX secolo. Grazie a tutti.